Il programma è offerto da Oggi vi presento il nostro nuovo programma Tam Tam, musica e dintorni Come si può evincere dal titolo parleremo di musica Ma non solo Ogni puntata parleremo di un periodo musicale Che ha influenzato la nostra vita Il nostro territorio Sia toscana che nazionale Insieme ad un graditissimo ospite Che ci porterà un LP E ci racconterà i suoi ricordi Legati a quel determinato periodo Il tema di questa puntata sono gli anni 70 E ne parleremo con il nostro ospite Massimo Gramigni Il nostro primo graditissimo ospite Della nostra prima puntata È il signor Massimo Gramigni Che è presidente nazionale dell'Assomusica Ex-presidente dell'Assomusica Ex-presidente Che è un motivo di vanto averlo qui con noi Nella mia vita professionale Che è partita il 25 aprile del 1979 E non pensavo di fare questo mestiere Organizzando il concerto di Lucio Dalla allo stadio Biglietto 1500 lire Nella mia vita professionale Insieme a Claudio Bertini E mio socio storico Ci siamo conosciuti il 10 settembre del 1979 Il giorno in cui organizziamo Patti Smetti Questa è l'originalità Prima Sashol Poi Obi-Hall Oggi Tuscani Hall E poi di avere un'intuizione In cui se devi gestire in forma associativa È un'associazione in Nelson Mandela Forum Un'impresa così complessa Un tetto così originale Talmente vecchio Ma centralizzato in pieno cuore di una città Dove sono rimasti soltanto due palazzi in Italia Palazzarita a Bologna E in Nelson Mandela Forum a Firenze Poi tutti i palazzi sono in periferia ormai In tutte le città sono in periferia Se devi gestire in forma associativa Un bene pubblico di quelle dimensioni Era bene avere un nome importante Mandela era vivo Quando 18 anni fa 17 anni fa Pensavo di chiamarlo Nelson Mandela Forum E proprio lui Disse di sì Il suo capo della Nelson Mandela Foundation E così è l'unico posto fuori dal Sudafrica Che porti il suo nome Beh, congratulazioni E poi anche un onore Una bella cosa Insomma, anche una bella idea È una bella responsabilità Il suo nome Mandela Perché è una bella responsabilità Noi decidemmo di chiamarlo così Perché il colore della pelle Può dividere gli uomini E l'uomo non può essere mai schiavo Di un altro uomo Un po' parlaci anche Della tua organizzazione di eventi Ma anche del tuo concerto A quale sei un po' più legato Io sono legato a Bananare Public Perché è stato Lucio Dalla il 25 aprile del 79 Dovete pensare che nel 79 Lucio Dalla costava 1.500 euro Dopo Bananare Public Insieme al primo concerto professionalmente Classificabile così che è Lucio Dalla C'è stata l'esperienza di Patti Smith Patti Smith perché il 10 settembre del 79 53.000 persone Dal sud Italia Da molte parti d'Italia Diciamo così Il club delle persone note Artisti e non artisti Che erano a vedere il concerto E' un club immenso Ogni tanto trovo qualcuno E dice Ma io c'ero Da Luciano Ligabue In poi A qualche scrittore Oggi importante A qualche giornalista A qualche magistrato Pertanto come dire Quell'esperienza di Patti Smith E' un'esperienza unica Biglietto 3.000 lire Palco coperto Il primo palco coperto In tubi innocenti Le transenne Erano le transenne De seggi elettorali Del comune di Firenze E insieme Dicevo All'esperienza di Patti Smith E di Banale Republic Ci sono state poi altre esperienze Che ti hanno formato E io a questo punto Dopo il concerto Manderei l'LP Se un po' è legata al concerto Oppure no Se c'è un suo LP preferito Quello è Banale Republic Dovrei essere Perché insomma Dentro c'è un Mi ricordo anche Dove fu registrato Con quali mezzi tecnici Perché fu Fra i primissimi live Forse il terzo o quarto Il primo in assoluto Fu PFM di Andrè Che fu registrato Poi al vecchio teatro tenda Oggi Tuscany Hall E a Bologna Ma la copertina è Fabrizio Insomma alla PFM Dentro il teatro tenda Dell'epoca Mentre noi Ci ascoltiamo la musica Io passo la linea Ad Andrea Rudini Grazie Matteo Della linea Per Tam Tam Abbiamo l'onore Oggi Il grandissimo onore Di avere Un ospite L'onere Che l'onere L'onore Che l'onere Abbiamo l'onore Di avere un ospite Che rappresenta Sicuramente Uno dei protagonisti Della storia Della musica italiana So perfettamente Che lui Non ama Essere storicizzato Ma vivere del presente Ma sta di fatto Che rappresenta La storia Della musica italiana Ma io so Per esperienza diretta Che il nostro ospite Di oggi In realtà È un artista 360 gradi Scolpisce Organizza mostre L'ideatore Del CPM Di Milano Centro professione musica Che non è solo Una scuola di musica Ma è anche Una idea Di educazione Musicale Sicuramente All'avanguardia Quindi Franco Mussida Franco Mussida Comincerei Questa chiacchierata Che riguarda Gli anni 70 I festival giovanili La musica La politica E però Mi piacerebbe Dare una visione Di quel periodo E quel tipo Di manifestazioni Non tanto sociologico Ne avevamo già parlato Franco Ne parliamo Da tanto tempo Ma non tanto sociologico Perché sull'allatto sociologico È già stato detto Di tutto Di più E probabilmente Non c'è granché Da aggiungere Mi piacerebbe Invece Che tu ci raccontassi Qual era il rapporto Musicale Con quel periodo Cioè che cosa ha significato Per il mondo del suono Quel periodo storico Sia del suono Insieme alla parola Cioè la canzone Che poi era legata Alle tematiche Di quel periodo Ma anche al suono Sganciato Dalla parola Cioè la musica vera Che è la descrizione Del mondo Attraverso i suoni Diciamo 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 che Almeno questa è la mia visione Perché poi La cosa bella È che ognuno Il mondo lo guarda Con i propri occhi Io provo a guardarlo Con i miei Ma credo anche Di averlo attraversato Con una generazione Di tanta Tanta gente A me A me Familiare E simile Nel senso che Io ero sul palcoscenico Però dialogavo Con una generazione Che aveva la mia età E con Diciamo Una Propensione All'ascolto Della Della musica Del tutto particolare Cioè noi Siamo stati Una generazione Di persone Che non hanno Semplicemente Ascoltato Le canzoni In Sanremo Piuttosto che La musica popolare Del periodo Siamo stati Una generazione Di transizione In cui ci sono Arrivate In Europa Una valanga Di comunicazioni Musicali Sonore Con tantissime Tipologie Di Di generi Musicali Che si sposavano Anche con la nostra Tradizione Ma che in ogni caso L'hanno poi Influenzata Non poco E queste comunicazioni Arrivavano Con generi Musicali Sonorità Con strutture Anche Melodiche Diverse Noi siamo La generazione Dei Beatles Di Rolling Stone Per quanto riguarda La musica popolare Lasciamo perdere Poi gli altri Fenomeni Ma che cosa Sono stati I Beatles Se non Dei Straordinari Melodizzatori La ragione Per la quale Loro sono Diventati Famosi Nel mondo Non è soltanto Per via Del fatto Che avevano I capelli A caschetto E le ragazze Andavano giù di testa Per formare Ma perché Sono stati in grado Di produrre Dei piccoli Capolavori Melodici Che poi In qualche modo La melodia E' uno dei Cinque elementi Fondamentali Del codice musicale Che ricordo Per tutti Quando si parla Di musica Non si parla Di canzone Canzone E' una Forma Che prevede Una sinestesia Che prevede L'uso della parola Quando si parla Di musica Si parla Di comunicazione Non verbale Tutto quello Che in qualche modo Non ha a che fare Con la parola Né con l'immagine Quando si parla Di musica Si dovrebbe parlare Di questo Poi siccome Il termine Bello Altisonante E' anche nobile Un ragazzino Dice che fa musica Si alza Di dieci centimetri Diventa più alto Perché si rende conto Di far parte Di un mondo Meraviglioso E straordinario Di cui però Spesso e volentieri Lui non ne conosce La radice Né tanto meno La ragione Ragione per la quale Abbiamo anche per questo Messo in piedi Una scuola Che il CPM Music Institute Che cerca di raccontare Anche queste cose Tornando A prima Quindi La nostra generazione È una generazione Che ha compreso E capito Meglio di altre Generazioni in futuro Quali erano Diciamo Davvero I frutti Più importanti Di questo Benedetto Codice musicale Di cui La melodia È uno degli elementi Essenziali Citavo i Beatles Perché Perché le loro canzoni Sono state poi Riportate Da Tutti i grandi artisti Di qualsiasi genere Per cui Vorrei sapere Se Non c'è una versione Classica Di Yesterday Se non c'è una versione Classica Di O pop Di Yesterday Fatta da altri artisti O altri cantanti Se non c'è una versione Jazz Fatta di Yesterday Perché alla base Perché alla base C'era la melodia E che cos'è Yesterday Se non Una melodia Che poi viene Presa Portata nel cuore Della gente Portata dentro Quindi Questo è un esempio Questo è un esempio Ho una domanda Da farti Rispetto a quello Che hai detto Fino adesso Tu hai detto Che quella generazione Era una generazione Che era portata All'ascolto Che in qualche maniera Accoglieva Ascoltando Proposte Musicali Cioè input musicali Di vario genere Bene Siccome io Ho la Insomma Credo Tutto sommato Che tutti i ventenni Di tutta la storia Dell'umanità In realtà Hanno la necessità Di Come dire Riconoscersi In una tribù Ancora prima Che Come dire Che diventare Cioè Questo riconoscersi In una tribù Li fa diventare Poi individui Allora La domanda Che io ti faccio È questa C'era sicuramente Una propensione All'ascolto Quanto di questa cosa Era moda E quanto di questa cosa Era dettata Dal fatto Che questi Che i ragazzi Di quella generazione Possedessero I codici Per poter decodificare La musica Che veniva proposta Domandona Cerco di essere Molto sintetico Quando Quando si dice Che la musica È un linguaggio universale Si deve Un attimo Riflettere Su che cosa Di che cosa Si sta parlando La musica È un linguaggio universale Proprio perché Il suo codice Sonoro Ha le caratteristiche Di attraversare Il mondo In maniera Trasversale Nel senso Che al di là Di alcuni elementi Del codice musicale Che possono essere Estrapolati In determinate aree Del pianeta E quindi Esasperati Magari In alcuni Suoi elementi Poi di fatto Il codice musicale È qualche cosa Di universale Proprio perché Viene accolto Dall'individuo In maniera Assolutamente naturale C'è una naturalezza Nell'ascolto Nel sentire La musica Che è proprio Proprio Della Della qualità Di questa comunicazione Se io faccio Un intervallo Di terza Un intervallo Di seconda Che sono dei suoni Distanti Uno dall'altro In un certo modo O se faccio Un certo ritmo O un certo tempo Produco un risultato Questo risultato Può essere Simpatico O antipatico Il massimo Di quello Che posso arrivare A dire È che Se ti è simpatico O antipatico Dipende Da quel tipo Di qualità Ma dipende Anche dalla qualità Della persona Che l'ascolta È universale In quanto oggettivo Diventa soggettivo Perché poi Ciascuno di noi Prova antipatia O simpatia Per qualche suono O per qualche intervallo O per qualche ritmo Questo è un altro paio Di maniche Rimane il fatto Che si dovrebbe Cominciare a comprendere Ma questo Per rispondere La tua domanda Dovrebbe essere Un compito Delle istituzioni Dovrebbe essere Un compito Delle scuole Che il codice musicale Deve essere insegnato Non solo Attraverso Lo studio Di uno strumento Ma il codice musicale Deve essere insegnato Come lingua Delle emozioni E come lingua Delle emozioni Non viene insegnato Il codice musicale Viene insegnata Viene insegnata La matematica Della musica Certo Non l'esperienza Della musica La grande diversità Anche della nostra scuola Rispetto a tante altre È che noi proviamo In qualche modo Attraverso l'esperienza A far vivere Alle persone L'esperienza Della musica Non la matematica Della musica Se tutto diventa testa E buonasera E cavolo La nostra vita È sempre Parte sempre Da un desiderio Parte sempre Da un piacere Parte sempre Da un sentire E poi cerchiamo Di dargli forma Attraverso la ragione Per non perderci Dentro questa cosa Meno male che c'è L'intelletto Ovviamente Ma arriva secondo Non prima Di tutto Senti Franco E quindi Questo vuol dire Che In quegli anni Quindi quando parli Di predisposizione All'ascolto Vuol dire Che i codici Accettati Anche nel Come dire Nell'ingue Occidente E poi sono arrivati Anche quelli orientali Ah certo Certo Sono arrivati anche loro A far parte Della famiglia Nel senso che Quando sono arrivati Tutti quanti Abbiamo detto Oh cavolo Benvenuti Non sapevamo Che c'eravate E voi Benvenuta India Benvenuto Dove In quei codici La parte spirituale Quindi quella Legata proprio All'emotività Pura Era Dei codici Come dire Fondativi Di quella cultura Sbaglio? No Più Non sbagli Ma voglio dire Attenzione Anche qua C'è da dire Una cosa importante È chiaro Che in quel periodo Storico C'è stata Una migrazione Spirituale Tra Oriente e Occidente Che è arrivata Nelle strade Delle nostre città E ha colpito Non tanto I salotti buoni Perché i salotti buoni Negli anni 30 Già l'India La conoscevano Gli inglesi L'avevano Annessa Al Commonwealth Qualche centinaio Di anni prima E quindi Non è tanto quello Quindi c'era già La conoscenza Dello spirito orientale Ma La meraviglia È stata Che Quel Quel mondo È caduto Nel popolo Tra virgolette Quindi c'è stato Un incontro di popoli Non più Un incontro Di pochi Di pochi eletti Di pochi eletti E Che cosa è accaduto È accaduto Che guarda caso Poi Tutto avviene Attraverso Elementi Che fanno sempre parte Del codice musicale Perché Quando è arrivata L'India E noi l'abbiamo salutata Con grande piacere Raviscianka McLaughlin Che è andato là Tutto Tutto il mondo Diciamo Anche della fusion Ma anche della musica Dei progressive E quant'altro Che hanno incominciato Ad accogliere Anche altri elementi C'è arrivata Non soltanto Attraverso le sonorità Quindi Non soltanto Attraverso il sitar I campanellini O la musica O L'elemento Diciamo Del canto Indiano Che sono delle cose Affascinanti E meravigliose Ma anche lì Ci sono arrivati Attraverso Degli elementi Del codice L'India Ha Il controllo Se si può dire Di una delle matrici Di una delle radici Fondamentali Del codice musicale Che è proprio La melodia Perché lì Non si coltiva L'armonia L'armonia È una cosa occidentale Il ritmo Arriva Più che altro Dall'Africa Da un punto di vista Delle sue radici Ma tutto l'elemento melodico Arriva dall'India Perché i raga Sono Pura Descrizione Melodica Di uno Stato d'animo E quindi Di una maniera Di essere I raga Sono Melodie Certo Certo E per chi C'è proprio Come si può dire La grande miniera Dal quale Noi possiamo Continuare Ad attingere Delle cose Non soltanto Ieri Ma Oggi E domani Per quelli che non Masticano la musica Quando Franco Mussida Quando si parla Non Franco Mussida Quando si parla di armonia Si parla di accordi Assolutamente Ok Franco Quindi Ti faccio Un'altra domanda Che riguarda questo In base a questo Questo è uno dei motivi Per cui poi Quando voi Andavate a suonare Anche fuori Dai confini nazionali In qualche maniera Riscontravate Successo Allora La domanda Che io ti voglio fare È dove hai avuto Avuto occasione Di suonare Fuori dall'Italia E come era La risposta Del Fuori Italia Alla vostra musica Il problema Il problema è quello Il problema riguarda le forme Cioè È chiaro che Non si può andare a vendere Il ghiaccio agli eschimesi Per cui Si parla di rock and roll O il blues Parti da Da cadrezzate Parti da segrate E poi Cerchi di andare A Nashville Provando in qualche modo A fare A fare A fare una copia Della loro storia Diventa un attimino Un problema Non che non si possa fare Perché sono gli straordinari Bullicisti Ci abbiamo Il Puma di Lambrate Che è un bluesista Meraviglioso Che Fabio Treves Che è un amico Anche Roberto Ciotti Ha fatto del blues Ma voglio dire Ce ne sono tanti Ma il problema Non è tanto la forma È riuscire in qualche modo A trasferire un elemento Di identità All'interno di questo Mondo Sono Mondo del suono E quindi La qualità Dei timbri La qualità del suono Noi siamo stati In America Siamo stati in Giappone Siamo stati Nel nord Europa Abbiamo girato Il sud America Senza fare Senza Proponendo musica Che non erano Canzoni Quindi non erano Racconti Di tre minuti Cantati Di una canzone Erano dei romanzi Erano dei racconti Erano dei viaggi Erano dei viaggi Di suono Dove per esempio Noi improvvisavamo Un sacco Anche no Quindi stiamo parlando Della prima età Ponella Marconi Perché dico noi Ma la maggior parte Delle persone Non sanno neanche Chi sono Probabilmente io Lo dubito però Va bene Lo dubito però Va bene Va bene I ragazzi sicuramente Hanno altro da fare Che non guardare I libri di storia Soprattutto di storia Della musica Perché tanto a scuola Non gli fanno Non gli fanno Neanche leggere Però al di là di questo Questo ti comunica E ti dice Che lo spirito giapponese Per esempio Rispetto allo spirito italiano Stiamo parlando di spirito Quindi stiamo parlando Di sensibilità dell'anima La sensibilità dell'anima Che non si traduce In nient'altro Che in osservazioni Di momenti Di comunione profonda Tra Attraverso Una comunicazione Che non è la lingua Perché giapponese Non lo conosco Però nello stesso tempo Quando suono Quando suoniamo Su un palcoscenico Siamo insieme alla gente Così come possiamo esserlo A Napoli Piuttosto che a Roma Piuttosto che a Firenze E non ci siamo sentiti Tanto diversi Nel fare Nel fare I concerti là Così come non ci siamo sentiti Tanto diversi Nel fare i concerti Negli Stati Uniti Un pochino diversi In Inghilterra Per cui c'è Una Una comunione Che si realizza Tra persone Tra esseri Proprio grazie al mondo Del suono E quella generazione Lo aveva sentito Più di altre generazioni Quindi Quel tema Quel tema Non a caso Quel momento storico Aveva decine Decine Di generi diversi Che venivano frequentati E venivano Dischi che venivano Acquistati Dalle stesse Da una stessa persona Che sentiva Tantissimi Generi diversi Ma li acquistava Per farlo Non è che c'era uno Spotify La gente Si disfava le puntine Soprattutto i municisti Perché all'epoca Non c'era la possibilità Di studiare Niente Perché non c'erano metodi Non c'era nulla Per cui Tutto si faceva Attraverso L'ascolto E l'esperienza Perché non c'erano metodi Comunque quella generazione È stata una generazione Baciata Da tante cose Meravigliose Tante cose Meravigliose Non se ne è accorta Perché L'abbiamo vissuta Ma poi non siamo riusciti A trasferirla E questa è una cosa Che mi fa molto Dispiacere per i ragazzi Di oggi Dispiacere perché Un certo senso Della qualità Che si riferisce Alla dimensione Perché poi alla fine I festival Quelli che dicevi tu Erano delle grandi feste In cui Si celebravano Si celebrava la diversità Per cui questi festival Per esempio Prova a immaginare Un festival con 50 rapper E 30 trapper Dopo un po' E due palle come un canestro Perché voglio dire Per quanto Per quanto tu voglia fare I racconti Tu sei sempre lì A sentire miliardi Di parole Che ti arrivano Dopo un po' Non ce la fai più La musica aveva Come Non sto dicendo Che non ci saranno Ci saranno stati Anche i festival Di rap Di trap Però Voglio dire La dimensione Di una certa monotonia Tra virgolette Che poi tra di loro Magari non è una monotonia Perché trovano diversità Certamente Ma invece Nell'ambito musicale C'era molta diversità I festival Avevano Tante Tante persone Tanti personaggi Che appartenevano A generi Ma anche molto diversi Però allora ti faccio Una domanda provocatoria Che cosa pensavano Gli over 50 Di allora Della musica Che facevano Che facevate voi Ma non venivano I festival Ma non è una provocazione Cioè La tua non è una provocazione Ci sono dei momenti storici In cui O ci sei O Quando ci sei Ci sei Se sei fuori Sei fuori Nei primi anni Del novecento C'erano Gli impressionisti Il periodo Del movimento Dove l'arte In qualche modo Si era quasi Sostituita Alla religione Pensa che roba E ha la scienza Per certi versi Quel momento storico Lì è stato Un momento Che ha vissuto Una generazione E un insieme Di generazioni In maniera Estremamente intensa Le persone Dell'ottocento Lì dentro Dicevano Ma che cacchio Ci fate voi qua Cioè Non mi capiamo Hai capito? E quindi L'over 50 Degli anni 70 Marinetti I futuristi Diceva Cioè Aboliamo I chiari di luna Cioè Uccidiamo I chiari di luna Tu capisci Cosa vuol dire Il romanticismo Portiamolo a casa Ma nello stesso tempo Ripeto Quel periodo storico È stato Un periodo Illuminante Anche per tutta La storia Che è venuta dopo E quello Che è successo Alla fine Negli anni 60 Negli anni 70 È che In potenza Era un periodo Simile Però ce lo siamo Giocati male Invece che Giocarcelo bene Questo avvantaggio Delle generazioni future Cioè dopo In cosa pensi Che ve lo siete giocati bene E in cosa ve lo siete giocati male Ce lo siamo giocati male Ce lo siamo giocati bene Perché ce lo siamo goduti Come dei pazzi E credo che Credo che Non ci sia Che abbia goduto Come Come la nostra La pienezza Della comunicazione musicale Ce la siamo giocati male Perché Ce la siamo goduta Così tanto Che non abbiamo saputo raccontarla Per cui siamo diventati Dei Dei reduci Di guerra Per certi versi Bello Bellissimo Questo E quindi Siccome L'abbiamo goduta Ma non ce l'abbiamo raccontata È successo Da quel momento in avanti È successo Quello che normalmente succede Nelle generazioni Ma con una velocità Ancora maggiore Cioè che ogni generazione Produce una 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 sorta di Lascito di memoria Che però Fa fatica A collegarsi A passare Fa fatica A collegarsi Con il resto Tutti quanti Giocano a fare una cosa Che prima Non è mai stata fatta Ma E quello è il problema C'è questo giocare Che è diventato Sempre più consapevole Mentre invece per noi Non c'è stata questa consapevolezza Perché eravamo Direttamente collegati A una fonte Ah questo è fantastico Io so che tu hai In uscita Un libro E un disco Forse il libro è già uscito E quindi volevo Che concludessi Raccontandoci Del franco Come dire Declinato al futuro Che io ho sempre Scritto libri di musica O quantomeno Il pianeta della musica È un libro Che consiglio a tutti Ma non perché l'ho scritto io Ma perché tratta proprio Del codice musicale Ed è una pubblicazione Del 2019 Il prossimo Il prossimo libro Quindi parliamo del futuro È questo qua Vediamo se si vede Lo vedete? Sì 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 Ecco L'oro del suono Si chiama Ma Mi piace ricordare Di quel periodo Quando non ero Da solo Ma ero in compagnia Di amici Straordinari Perché l'esperienza Di gruppo La consiglio A tutti i musicisti Perché fare un'esperienza Di gruppo È una meraviglia Del cielo Perché si riesce In qualche modo Prima di tutto Non si è da soli E stare da soli È una cosa sempre Molto complicata Poi Da soli non si è mai Perché si è sempre Con qualcuno Da solo Non ci fa mai niente Però In ogni caso L'esperienza artistica Di gruppo È una cosa Che consiglio A tutti quanti Però voglio dire L'esperienza di gruppo Che volevo lasciare Questo poi Che è una delle cose Che in qualche modo In quegli anni Visto che il tema Era ancora quello Era sicuramente Più Più vissuto C'era Più volontà Di stare insieme Più volontà Di condividere E E E E E Dove l'uno vale uno Dove la persona Sta davanti E buonanotte C'era Uno spirito Che era uno spirito Di gruppo Che era stato poi Anche quello Che ha governato Gli spiriti di popolo Che hanno governato Col periodo storico Ok Chiudiamo Franco Con Una domanda Che riguarda Il tuo Prossimo disco Il prossimo lavoro In studio È finito Non è finito Quando uscirà E che cos'è Allora Allora Io non Non avevo bisogno Di fare Un ulteriore disco La mia La mia età Poteva anche Suggerirmi Di continuare A fare quello Che faccio E lavorare Per i ragazzi Di oggi Nelle comunità Nelle carceri Vi dicevi Però ho sentito La necessità E il bisogno Di doverlo fare Ma proprio Per le ragioni Che ti dicevo Cioè Che E ti dirò Anche Che mi piacerebbe Anche molto Portarlo in giro Adesso Che è quasi finito Nel senso Che le composizioni Sono terminate Sono in studio E sto finendo Ci metterò Ancora un mesetto Per fare Sovrapposizioni Rivisitazioni I canti Contributi Altri Diversi Un'orchestra Un'orchestra Di mandolini Cori Cioè cose Che credo Possano essere utili Per raccontare Ma soprattutto Per fare emozionare Perché la cosa Più importante Poi a me È quella E l'emozione A chi È un disco Totalmente Non so Se gli farà piacere Oppure mi tireranno Le pietre Tutti quanti Ma è un disco Completamente Dedicato Alla mia generazione Per le caratteristiche Che ti ho detto prima Concludo così Innanzitutto Ti ringrazio E va bene Credo di poter Interpretare I desideri Anche Di tutti Gli ascoltatori Ma il mio Sicuramente Che sarebbe Quello Di averti ospite Nella presentazione Di questo Disco Nuovo Io vivo A Colle Valdelsi Sono innamorato Di questo Paese E a Colle Valdelsa C'è Uno spazio Potenziale Per la musica Che si chiama Il Teatro dei Vari Che è chiuso Da tanto tempo Sarebbe bellissimo Se tu avessi voglia Di venire A Colle Valdelsa A Magari anche A fare La Come dire A costruire Lo spettacolo E a fare La prima Del tuo concerto Del tuo disco Al Teatro dei Vari Che è una roba Meravigliosa Un teatro all'italiano Dei 150 posti Proprio un gioiellino E una perla Ed è uno Dei più vecchi Teatri antichi D'Italia Sarebbe bellissimo Io con questo auspicio Ti ringrazio Vediamo che cosa Ci riserva al futuro Credo che ci piacerebbe tanto Tanto grazie Franco Grazie a te Tantissimo Chiacchierata Meravigliosa Mi sono anche Emozionato In alcuni momenti Quindi Io ti ringrazio E ci vediamo A scuola Presto Spero Ciao Grazie Ciao 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 Salve a tutti Sono Carlo Spinelli Da oggi In questa trasmissione Parleremo anche Di una serie Di episodi Di aneddoti Su quello Che è successo Nel mondo musicale Di Colle Valdelsa E della Valdelsa In generale Negli ultimi 40 anni Partiamo subito Da quello Che possiamo definire L'inizio La scintilla Che ha fatto scoppiare Il tutto Che ha consentito A una generazione Allora 17-18 anni Di iniziare Un percorso Che ha portato Poi A fare Tutto quello Che è accaduto Durante gli anni La scintilla È stata Il concerto Dei Caffè Caracas Alla Piscina Olimpia Anzi Nel piazzale La Buca Durante la festa Dell'unità Che in quegli anni Si svolgeva Lì Intorno alla Piscina Olimpia Caffè Caracas Che erano Band Di Punta Della prima Scena Fiorentina Erano composti Da Raffaele Riefoli Raff Diventato famoso Come Raff Successivamente Da Ghigo Renzulli Che poi Ha fondato Elite FIBA E da Renzo Franchi Nostro Concittadino E Amico Questo gruppo Diciamo Faceva un genere musicale Che noi definivamo Punk Ma che in realtà Non era punk Però non era il rock Che eravamo Abituati a sentire Durante gli anni Settanta E nel decennio precedente Diciamo così Oltretutto I Caffè Caracas Nel 1980 Aprirono A Bologna Il concerto Dei Clash E quindi Ancora di più Ci sentivamo Come dire Orgogliosi Di questa cosa E volenterosi E vogliosi Di portare Colle Valdelsa Sulle mappe Del rock and roll La scena fiorentina Che si è sviluppata Negli anni successivi Con la triade Dei gruppi Di successo Di livello nazionale Ovvero Neon Litfiba Diaframma Questi tre gruppi Ogni qualvolta Ce ne fosse stata L'occasione Noi eravamo lì In prima linea A proporli Per le varie feste Per le varie rassegne Sono passati anche Da Poggi Bonzi Nel 1982 E sono stati quelli Che hanno dato Come dire Per 4-5 anni Lo stimolo necessario Per continuare Questo percorso Definiamolo Rock and roll L'episodio Di oggi È legato Ad una mattinata In cui I Neon Che erano Il gruppo Più elettronico Dei tre Quelli dal look Più Definiamo Notturno Sempre vestiti Di nero Con capelli Con un taglio Particolare Con un abbigliamento Diciamo Inusuale Rispetto Alle mattinate Standard Di Colle Valdelsa I Neon Questa mattina Vedero a suonare Alla festa Del liceo Alessandro Volta Al teatro Del popolo Di Colle Valdelsa Ma a mezzogiorno Logicamente Mezzogiorno e mezzo Finì tutto Alla fine Andiamo a mangiare A pranzo Nell'allora Trattoria D'Avvirio In Sant'Agostino Che era Diciamo Una delle ultime Trattorie Che venivano Dagli anni 50 60 Presenti A Colle Valdelsa E Logicamente Loro Non Si presentarono In abiti Civili Ma Vedero Vestiti Come erano Sul palco Quindi Perri aveva i capelli Tutti cotonati Era mezzo truccato Tutti vestiti di nero Le ragazze Bellissime Che erano insieme a loro Avevano un abbigliamento Molto strano Ma Il tutto Potevamo Definirlo Come Abbigliamento Da Tenax Da Tenax Dal locale Notturno Fiorentino Perfettamente Alle due di notte Sarebbe stato perfetto Non a mezzogiorno A Colle Valdelsa Andiamo a mangiare D'Avvirio E a fine Pranzo Quando arrivai a pagare La signora Lei da la signora Del ristorante Mi prese da una parte E mi chiese Se ero ancora fidanzato Con la ragazzina Che abitava in via palestro E io gli domandai Sì sì Perché Mi fai questa domanda E la risposta fu Perché ti ho visto Con questa brutta gente E avevo paura Che tu avesse perso la testa Ciao a tutti E alla prossima Eccoci Tornati Massimo Allora Abbiamo detto Il titolo di questa puntata Sono Gli anni 70 Musia, politica E festival Noi possiamo Tranquillamente dire Che la musica Anni 70 Ha influenzato Un po' La cultura Il nostro territorio Sia regionale E nazionale Secondo te È lo stesso Anche per la musica Di oggi Alla stessa Impronta E importanza No Perché Chi ha vissuto Quella musica Si è confrontato Non soltanto Con i ritmi musicali Con gli arrangiamenti Musicali Ma coi testi Era Era La generazione Dei cantatori In Italia E nel mondo Tanto le parole Avevano un significato Quanto la musica Oggi la musica È predominante Sul testo Fondamentalmente Perfetto Grazie E noi passiamo La linea A Pietro Grazie Matteo E un saluto A tutti gli amici Di Tantan Nella rubrica Parleremo di Cucina Design Tendenze E abitudini Del periodo Che andremo a trattare Oggi Parliamo degli anni Settanta Gli anni Settanta Si aprono In parte Come una sorta Di continuazione Di quelle che sono state La seconda parte Degli anni Sessanta Quindi Il movimento hippie Il movimento flower power Caratterizzato Da un punto di vista Di moda Appunto Da colori sgargianti Le bluse messicane Le camicie a fiori I jeans a zampa Di elefante Gonne larghe Lunghe Per quanto riguarda L'abbigliamento femminile E una piccola rivincita Se la prende Anche la hot shirt Che fino a quel momento Era considerata Semplicemente Un indumento intimo E che invece Diventa Un vero e proprio Capo d'abbigliamento Per tutti i giorni Dal punto di vista Gastronomico Invece Anche qui Si ha una Una rivoluzione Specialmente In Francia Si sviluppa Un movimento Che poi Diciamo Un po' tutti noi Conosciamo Come il movimento Della Nouvelle cuisine Quindi Che si caratterizza Decisamente Per Un utilizzo Di materie prime Ben selezionate Originali Mai troppo futuristiche Però Creando Piatti leggeri Salse L'utilizzo Di salse Non troppo Complesse Non troppo pesanti Abbastanza Appunto Leggere E sicuramente Una nota Molto importante L'assume L'estetica Del piatto Sicuramente Uno dei piatti Più famosi Che si affermano In quel periodo È la tartare È la tartare di manzo Nella versione francese Se non erro C'è qualcosa Come 13-14 ingredienti Che la compongono E proprio perché La carne Usualmente Non deve essere macinata Ma battuta al coltello Si prediligono Parti di manzo Morbide Non troppo infiltrate Di grasso Come filetto Scamone Codone O la fesa francese Appunto La carne Si taglia In piccolissimi pezzi Dal coltello Appunto Aggiungendo spezie Come sale Pepe Scorsa di limone Dicevo Sono quasi 13-14 Nella versione francese Ed è con solitudine Servirla Con un tuorlo Di uovo Al centro Per questo piatto Voglio presentarvi Aria Chianti Classico Annata 2018 Dell'azienda Casa al Vento Di Gaiola e Inchianti Nati nel cuore Della Toscana I vini di Casa al Vento Sono passione Tradizione E rispetto Della terra In questo caso Abbiamo un 100% San Giovese Di cui frutti Si vendemmiano Nella prima decada Di ottobre E una vinificazione Sulle fece Per 25-30 giorni L'affinamento Avviene Per 18 mesi In barrique E per 6 mesi In bottiglia Andiamo ad assaggiare Al naso Al naso si avverte subito Un bouquet complesso In cui si avvertano Sentori Di frutta rossa Tendenzialmente Di mora Forse In maniera più Più importante Che però Sul finale Si integrano Molto bene Con le note speziate Del legno Della barricca Assaggiamo Si nota un vino Armonioso Secco Caldo Bello avvolgente In bocca Piacevolmente Tannico Gli abbinamenti ideali A mio avviso Sono appunto Piatti A base di carne Cruda o cotta In questo caso cruda Come la tartare Ma anche Una bella bistecca Alla fiorentina Una brace Potrebbe andare Molto bene Comunque Provate Poi Ditemi voi Alla prossima puntata Eccoci Massimo Siamo arrivati un po' Alla conclusione Di questa puntata Che è stata Molto divertente E ci tengo già Innanzitutto A ringraziarti Per la tua presenza Grazie a voi Grazie a voi E auguri Grazie altrettanto Che è stata Molto stimolante E ci ha fatto Anche molto onore A noi Quindi ti ringraziamo Innanzitutto Concludo Una domanda Che è semplice Però allo stesso tempo È difficile rispondere Qual è l'artista tuo Preferito Al quale sei più legato E un po' Anche dei tuoi artisti Perché te hai conosciuto Molti artisti internazionali Quindi Se ce n'è più di uno Un po' Se ci vuoi raccontare Un po' in generale Di questa tua conoscenza Con gli artisti Se dovessi rispondere Con sincerità La battuta Che faccio a tutti Ma mi serve un po' Per proteggermi Io degli artisti Conosco le fatture Tutte comitanzate E questa Rispondo così Perché mi proteggo Un po' Il nostro toscano Dorenzo Ecurubini Dorenzo è Un uomo Dorenzo è come dire Quel che è Sul palcoscenio È così nella vita Insomma Ecco voglio dire È così nella vita Sicuramente Ho un ricordo Straordinario Di Peter Gabriel Straordinario Ma straordinario Perché Finito un concerto Bellissimo All'epoca Palazzo dello Sport Oggi Nella Somma Della Forum Che doveva prendere Un volo La mattina presto Per Londra Da Giorno dopo Da Pisa Si fece accompagnare Da Me lo ricordo Ancora Da Maurizio Rossi Ma quel momento Lì lui aspettò Un po' L'ottanto doveva Dormire poco Lo smontaggio Si posizionò Ingradinata Mentre tutti smontavano E a un certo punto Mi fece presente Che sua figlia Che era in tournée Era quella Che portava il caffè A tutti i tecnici Mentre smontavano Con un termos Con i bicchieri In polesterolo Quelli che tengono In caldo Girava E portava il caffè Sua figlia E non potrò Mai dimenticarmelo Insomma Poi mi viene in mente Tutti gli italiani Che ho conosciuto Ma ritorna Il rapporto Con Lucio Dalla Insomma Io e Claudio Bertini Abbiamo avuto Un rapporto Con Lucio Dalla Lui ha avuto Un rapporto Con noi In cui C'è un aneddoto Bellino A un certo punto Gli chiedono Ma Claudio e Massimo Due amici di infanzia Ecco Questa è stata La battuta E poi Lui Di me Di Claudio Ovviamente L'infanzia Non è stata Congiunta Ma è stata Congiunta Una serie Di attenzioni Di passioni Di momenti difficili Vissuti Vissuti Sui palcosceni Insomma Ti ringrazio E rimarrei Altre ore Ad ascoltarti Onestamente Però Dobbiamo Noi La prossima puntata La facciamo Un'ora Per ogni anno Vediamo se 41, 42, 43 puntate Possiamo fare Va bene Allora abbiamo Del materiale Grazie ancora Davvero Di cuore Grazie a voi Musia Tantan Musia Editorni È tutto Un saluto E rimango così La testa tra le mani E rimango così Aspettando domani Tu conosci di me Tu conosci di me La parte migliore Tu conosci di me Giorni Giorni senza dolore Non ti ho mai fatto Entrare Nel mio abisso profondo Non ti ho mai fatto Non ti ho mai fatto Entrare Quanto buio È il mio mondo E va bene E va bene E va bene così Non mi aspettare E va bene così Non mi rispettare Tutto ciò che hai di me Non è davvero importante Tutto ciò che hai di me È il bacio di un amante Il programma è stato offerto da Grazie a tutti